Fa caldo eh! Mamma mia sono in un bagno di sudore! Ottimo! Sapete a cosa serve il sudore? A rinfrescare la pelle e l'organismo quando fa troppo caldo. In estate la pelle si rinfresca proprio grazie al sudore che quando evapora fa scendere la temperatura e rinfresca la pelle. Però si perdono liquidi e sali minerali che vanno reintegrati, altrimenti ci si disidrata e si ha un calo di calcio magnesio, sodio e potassio. Minerali. Ognuno suda a modo suo e perde minerali in modo diverso, ma per tutti vale la regola di seguire un'alimentazione più ricca di frutta e verdura per rimineralizzare il corpo. Ma vanno inseriti a ogni pasto? Frutta e verdura cruda prima delle altre portate come antipasto? Anche la frutta mangiata prima si assimila meglio e non gonfia. Poi bisogna bere molto per non sentirsi stanchi e irritabili. Ma non bere energy drink o quelle bevande per sportivi industriali? Sì, io non li sopporto, come sempre le cose fatte in casa sono le migliori, perché sappiamo cosa c'è dentro. Ecco la ricetta del mio energy drink naturale. Mezzo litro di acqua minerale naturale, un pompelmo rosa spremuto e mezzo cucchiaino, po' più po' meno di sale rosa dell'Himalaya. Idrata, disseta, mineralizza, alcalinizza ed è pure buono. Se ami la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao! Quale? Finito!